Si è fatta una foto subito dopo la nascita del quinto figlio, del quinto genito, per mostrare l'effetto che le gravidanze hanno nel corpo. Ma quando ha visto la foto è scoppiata a piangere un piantadillo, tutta la resta senza parola alcuna, si chiama Lacey Barrett, via al Melbourne in Australia. Dopo la nascita del piccolo Lennox, secondo il 5 gennaio, però ha avuto un forte periodo di depressione davvero molto, molto elevata. Non volevo più guardarla, ho visto una donna in piedi, accanto a lei, dei fogli che si complementavano per la nascita, ma non c'era alcun legame. Sembrava che un colore avesse scaricato un bimbo in braccio. Sarebbero state queste le motivazioni della donna, secondo le esi nei suoi occhi. In quei scatti non ci sarebbe alcuna forma d'affetto o di empatia, come se i precedenti parti l'avessero resa indifferente, quasi in modo totale, al miracolo chiamato della vita. Grazie per l'ascolto e vi ho detto a Minacqua. Un saluto e a presto.